Livelli del Lago di Como al via la realizzazione di una piattaforma unica per la gestione delle acque e per la pianificazione regionale. Il progetto è stato presentato questa mattina all'Ario Fiere di Erba dal Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, dal Consigliere Mauro Piazza e dal Deputato Lariano Alessio Butti, che da tempo si batte per trovare una soluzione per porre rimedi ai problemi derivanti dalle diverse esigenze di chi gravita attorno al bacino dell'Ario. L'interesse è quello di consentire alle amministrazioni comunali, che sono quelle che subiscono i danni più evidenti dall'alzamento e dall'abbassamento dei livelli del lago, di poter intervenire sulle infrastrutture ammalorate da questi livelli. Un studio scientifico importantissimo che noi cercheremo di elaborare con l'ausilio del sistema universitario, quindi con il Politecnico e con l'Università degli Studi di Milano, con la regia ovviamente dei ministeri competenti e il finanziamento di Regione Lombardia. Regione Lombardia finanzierà il progetto con 600 mila euro. Creare una piattaforma che sia la più condivisa possibile, quindi tutti gli interlocutori e tutti gli interessati al tema delle acque del lago di Como dovranno compartecipare. e la condivisione sarà la vera forza, oltre ai dati scientifici e ai dati tecnici che verranno inseriti in questo studio, per poter finalmente procedere con una modifica legislativa che vada a rivedere il tema dello zero idrometrico e il tema del livello minimo delle acque del lago di Como e costruire quindi lo strumento che consenta di risolvere definitivamente questo tema. Grazie